Gentili telespettatori, buona giornata, la segna stampa di oggi giovedì 22 febbraio 2024, il Corriere della Sera sul ponte è già duello, il leader della maggioranza insieme sul palco in Sardegna siamo compatti, ma le tensioni restano, Salvini sull'inchiesta, non temo sinistra ai giudici, l'amministratore delegato ciucci stretto, tutto regolare e poi vediamo che Nordio boccia l'omicidio sul lavoro perché non ha funzionato in altri casi come quello stradale, non sono diminuiti gli incidenti, Europa serve difesa comune, noi con Kiev non c'è un piano B, l'intervista con Michel e poi Navalny nuova ipotesi fatale un pugno al cuore, l'itemosca a Farnesina, il caso dell'ambasciata russa da voi giudizi faziosi e poi l'ergastolo per questo che vedete nella foto che aveva ucciso Karol Maltesi e andiamo adesso a vedere la Repubblica che titola riforme il muro della Lega, maggioranza inquieta, il ministro Calderoli chiede il terzo mandato per i presidenti di regione altrimenti proporrà un limite per i parlamentari, in Sardegna per le regionali, Salvini, Meloni sfilano uniti sul palco, Nordio no al reato di omicidio sul lavoro, pronte le nuove norme però omettono di dire il perché Nordio abbia detto di no, ovviamente sono tattiche elettorali e fiancheggiatrici della sinistra e poi vediamo Cortina, un requiem per la foresta, deve passare una pista di Bob e quindi tirano giù tutti gli alberi e poi l'ambasciatore russo, l'Europa si smarchi dagli Stati Uniti. Andiamo a vedere la stampa che titola il far west dei cantieri, il 70%, il 76% è irregolare, beh, credo che nessuno aveva dubbi su questo. E poi vediamo qui la notizia ripetuta, Navalny ucciso da un pugno al cuore e poi la studentessa italiana in Russia, amo la Russia di Putin, sogno, la cittadinanza, il passaporto. Andiamo adesso a vedere, libero quotidiano, stoppa le vessazioni, fisco, tagliate le super sanzioni, via libera del CDM alla revisione del sistema multe, cancellati i rincari del 240% sul dovuto, tetto al 120%, non punibile chi paga entro 60 giorni se la norma era incerta. E poi politica dei divieti, talebani dell'ecologia in guerra con i cittadini, aperta un'indagine preventiva, la sinistra schiera i PM per fermare il ponte. E poi presa di mira da una pensionata e dai suoi amici filopalestinesi. Schlein contestata, vai a lavorare. E lei sorride, ride. E poi andiamo adesso a vedere il giornale che titola Rivoluzione e fisco, multe più levi a chi è in difficoltà, via libero allo schema di decreto, freno alle maxi sanzioni, ridotta la punibilità penale, ma colpiti i comportamenti fraudolenti. E poi il patto di Cagliari dureremo cinque anni. Lente sui lavori, il ponte non c'è ancora e i PM già lo indagano. Il PD chiama e la procura apre un'inchiesta. Salvini nemici delle opere e del paese. Sinistra del non fare, dall'alta velocità alle autostrade, l'antico vizio del boicottaggio. E poi omicidio sul lavoro, no del governo, le misure contro le morti bianche. Però l'analisi dice che l'Italia è meno pericolosa. Una cosa è quello che si percepisce e una cosa è la realtà. Andiamo adesso a vedere il Fatto Quotidiano che titola Ilva, il commissario a due condanne. E poi Assange l'ultimo sfregio. Sentenza chissà quando. A Bagnomaria l'alta corte chiede l'udienza ma rinvia a dopo il 4 di marzo. Parla la moglie Stella e il verdetto ci dirà quanto gli USA hanno insabbiato i propri crimini di guerra. Andiamo adesso a vedere la verità che titola Ma che sanzioni siamo in affari con Putin, le ipocrisie sotto la tragedia ucraina, due anni di retorica sullo zar moribondo, l'esercito russo a pezzi, il crollo imminente. Risultato? Centinaia di migliaia di morti mentre volano le importazioni alimentari da Mosca. Il grano duro fa più 1.164% e grazie alle triangolazioni pure quelle del petrolio. Sondaggio in 12 paesi dell'Unione europea appena il 10% ritiene possibile la vittoria di Kiev ma i governi tirano dritto e poi i successi della sinistra far indagare il ponte che non c'è. E poi l'Italia stanzia 8 miliardi per fare incetta di carri tedeschi da qui al 2037. Ecco perché insomma dobbiamo rinnovare i mezzi militari che stanno invecchiando. Agnelli la faida sui fondi esteri travolge i legali. L'avvocato di Margherita rivela in un libro che John gli avrebbe detto mia madre non deve vedere l'altro, non deve vedere altro. Poi la donna accusa il professionista di doppio gioco. Lui querela e si oppone alla richiesta di archiviazione. E adesso andiamo a vedere il tempo ma non si può vedere perché è quello del giorno prima e passiamo direttamente al Sole 24 ore che titola oggi Allarme ONU a Gaza, mancano cibo e acqua, proteste contro Hamas e poi fisco arriva alla riforma delle sanzioni. Il debito mondiale acquata 313 mila miliardi di dollari, ricoveri obiettivi al 56%, ora nuovi euro bond per finanziare la difesa, eredi del vecchio vicino l'accordo clausola per l'uscita da Delfin. E vediamo che poi terzo mandato il centrodestra alla conta in Parlamento. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che ci sono anche dei video su Teleitalia Seconda Rete che è l'altro mio canale dove c'è almeno un video al giorno. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti.